Salgono i casi covid in Abruzzo, sono 141 i nuovi positivi nella nostra regione registrati ieri. Di contro però fortunatamente non si hanno né decessi né ricoveri grazie al vaccino che riesce a ridurre le situazioni peggiori. Le zone più colpite sono quelle del Pescarese e oltre la metà dei contagiati a meno di 30 anni. Il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia, fa il punto della situazione in Abruzzo con uno sguardo al futuro, in particolare all'autunno. Stanno aumentando i contagi, sono quasi prevalentemente causati dalla variante delta ex indiana, stiamo tra il 60, 65 e 70% di prevalenza. Tutto il resto è variante alfa, cioè inglese, ed è una situazione piuttosto tra virgolette normale, cioè il fatto che stiano aumentando i contagi, ma l'indice di ospedalizzazione è ancora fortunatamente basso. Ma è giustificato perché si tratta per lo più di giovani non vaccinati, quindi i giovani per conto proprio già si infettano e ammalano di meno, quindi difficilmente si ammalano gravemente. In più non sono vaccinati, quindi è normale che ci sia questa circolazione in un ambito di età, diciamo così, fra gli under 30 e 20 anni, che comunque si ammalano poco. Poi c'è il caldo, che fortunatamente contiene la progressione della virosi e quindi non abbiamo casi da ospedalizzare. Però c'è anche da dire che i giovanissimi adesso ricorrono per ottenere il Green Pass, come dire, ricorrono alle vaccinazioni. Allora, personalmente ritengo che il Green Pass sia un grimaldello utile per convincere delle persone, soprattutto giovani, ma non solo, scettici sulla vaccinazione a vaccinarsi. Quindi io sono favorevole per questo motivo, a parte tutto quello che si dice di azione liberticida, eccetera. Per quanto mi riguarda da tecnico, e parlo da tecnico, la vaccinazione dovrebbe essere obbligatoria, perché questo tipo di vaccino? Perché se è obbligatoria la vaccinazione ai nostri neonati, dai tre mesi in poi ci sono dei vaccini obbligatori, dovrebbe essere anche obbligatoria la vaccinazione anti-Covid, altrimenti non ne usciremo a breve. Per concludere le chiedo, è impossibile fare previsioni, ma per quest'autunno? Allora, diciamo che probabilmente avremo un'ondata di casi non gravi, grazie all'azione dei vaccini e dei vaccinati. E quindi, dal mio minuscolo pulpito, invito tutti i cittadini abruzzesi che ci sentiranno a vaccinarsi per il bene loro e soprattutto della comunità.